Grossa alla sotera verso Brunori! E' il Palermo in vantaggio! Ancora lui, sempre lui! Solo 22 in campionato per Matteo Brunori! Palermo in vantaggio, inutile dirvi chi ha segnato, ha segnato Matteo Brunori! 22 gol in campionato! Sta battendo ogni record! Palermo in vantaggio! E' l'importanza di avere un calciatore del genere in rosa! Palla dentro di Gironne, Brunori non ci ha pensato su due volte!